ore e mezza avanti, quindi siamo veramente corrosivi delle volte al vuoto, al nulla, il tentativo di buttare giù le cose, di non rispettare la propria comunità, chi ci lavora, chi ci si mette a servizio dalle 7 del mattino, come fa il sottoscritto, alle 10 di sera, e non è che voglio essere ringraziato per questo, ma manco denigrato per quello che uno fa, e dico c'è una, secondo me, una stupidità, mi permetto di dire, nel dire che a Nocera non c'è Movida, certo non è Salerno e non è Madrid, ma viva Dio, è una città che ha delle attività ricreative che esistono in città e che hanno bisogno di esprimersi, ma esprimersi senza infastidire il prossimo, cioè se a Salerno l'orario di chiusura della musica, cioè dei rumori, è a luna di notte, Nocera, che non è Salerno, ma che non è che non ha Movida, a mezzanotte… Anche a Cava, credo, proprio ieri hanno fatto un analogo provvedimento. Con lo stesso orario? Cava, che notoriamente, turisticamente, è più di affluenza di noi, fa la mezzanotte, quindi penso che è un orario che va più che bene. Poi ci siamo riservati la possibilità di autorizzare singoli eventi, privati o pubblici, in deroga all'ordinanza, ma l'esigenza è di rispettare, visto che ho sulla scrivania un mazzo di firme, di gente che mi segnala il problema, e lo segnala alle autorità competenti, delle emissioni rumorose, sonore, che vanno oltre ogni tollerabilità, e non arrivano manca l'una di notte, arrivano alle due di notte… Certo, anche perché, voglio dire, Movida ben venga, ma ci sono anche le persone tranquille o di una certa età che hanno bisogno di stare al fresco e in tranquillità. Tutto questo non sarebbe successo se, con un po' di intelligenza e senso pratico, alcuni gestori, anziché sparare la musica a decibel fortissimi, fino alle ore notturne, fino all'alba, si fossero contenuti. È chiaro che, sollecitato dall'utenza, come rappresentante di tutta la comunità, bisogna contemperare gli interessi. Lo abbiamo fatto, limitando le emissioni sonore e quindi impedendole oltre la mezzanotte, e la vendita, per esempio, di prodotti alcolici e non alcolici in bottiglia di vetro, oltre le 22, ma non la vendita, la vendita fuori dai locali. Cioè, noi spesso vediamo in città, la sera, io che la vivo quasi H24, tranne le poche ore che dormo, vedo che c'è la cattiva abitudine, anche in pieno centro, di lasciare bottiglie di vetro su strada, abbandonate, come se fosse un mercato. E non si può fare così, quindi abbiamo limitato anche questo. Credo che un provvedimento di normale civiltà non è né un pugno di ferro, né chissà quale cosa eccezionale. Sindaco, un argomento che a me sta particolarmente a cuore, ma credo anche a buona parte dei telespettatori, il destino degli strumenti di programmazione. Ieri sera c'è stata una nuova riunione per il piano, le due fronde, posso usare questo termine, le due correnti di pensiero sul destino di piano e patto, ma anche di Agroinvest, si sarebbero scontrate ulteriormente? Ci faccia capire. Guardi, ho partecipato fino ad una parte della riunione, poi avevo un impegno pregresso, che è appunto l'inaugurazione di quello slago della Piazzetta Petrosini. Ringrazio l'esercente commerciale che si è messo a disposizione, contribuendo a riadattarla con la nostra autorizzazione, quindi sono dovuto andare via. È rimasto l'assessore delegato e la segretaria generale del comune che presenziava l'incontro. È venuta fuori nel corso dell'iscussione, lo dico per dare un po' la misura dell'atteggiamento e di un'impostazione un po' diversa che come comuni di Nocera, come città di Nocera noi rivendichiamo. A un certo punto si è detto, ho sentito dire, non è la prima volta che è capitato, da parte di qualche collega sindaco dice, ma la politica decide, poi si trovano gli strumenti normativi. Io che faccio l'avvocato e credo che la legge si rispetti sempre, dico che si vede quello che la legge prevede e sulla base di quello che la legge prevede, poi la politica decide. Se si pensa che la politica equivale alla legge, siamo al Messico, al Sud America con i risultati che spesso vediamo nelle nostre zone, ci ho detto battuta a parte. Credo che siamo all'eterna questione degli strumenti di programmazione, che secondo me i cittadini ne sentono parlare, non hanno neanche ben compreso a questo punto della filastrocca a che punto si sia. Che cosa sono? Piano di zona forniscono per obbligo di legge e previsione regionale i servizi sociali, sul comprensorio, da Scafati a Nocera Superiore, compresi i comuni interni. Poi c'è l'Agroinvest, che cos'è? Si chiama società di trasformazione urbana, strumento operativo del patto e quella che a Nocera Inferiore ha permesso di fare il piano industriale di Fosso Imperatore, ma non quello di Salerno Sviluppo che è stato fallimentare, ma quello di Agroinvest che ha funzionato e che potrebbe tornarci utile. A noi Nocera abbiamo riaperto il capitolo di discussione con gli imprenditori di Casarzano per la realizzazione e completamento dei lavori su Casarzano, se riusciamo a sbloccare quella matassa che ci trasciniamo dietro da un bel po' di anni. Sul terzo strumento il patto territoriale. Il patto territoriale ha avuto una funzione all'inizio, poi l'ha ampiamente persa, si immarginava che potesse ricevere dei soldi dalla regione in virtù dei cosiddetti accordi di reciprocità ADR, la regione non li ha più finanziati, noi abbiamo delle persone posizionate lì che vanno pagate, che sono al momento credo in cassa integrazione, rispetto a questo strumento non è che il comune di Nocera è ostile per pregiudizio, né per rapporti politici, lo voglio chiarire, il comune di Nocera ha ed avrà sempre, finché ci sarò io, un'idea istituzionale della gestione amministrativa, comunale e sovracomunale, quindi non è qui si tratta di fare accordi con la provincia o contro la provincia, con dei comuni o contro altri comuni, questo lo facciamo fare a chi ha voglia di farlo, però diciamo che il patto territoriale ad oggi la funzione l'ha esaurita e per noi non è innocuo il problema, perché ci costa, quando sono stati sottoscritti gli accordi perché ogni comune pagasse l'equivalente di 2 Euro pro capite, il comune di Nocera che ha firmato con l'ex sindaco questo impegno che comporta esborso di danari per il nostro comune non ha avuto mai un successivo passaggio di ratifica e noi non lo riconosciamo questo impegno economico, che ci costerebbe centinaia di migliaia di Euro, quindi iniziamo perché non ci sono i supporti giuridici per il riconoscimento, riteniamo però che se il Padre Eterno illumina qualche nostro collega di territorio, riusciremo a fare una cosa sistemata che è semplificare le cose, il piano di zona richiede un ripensamento, l'attuale gestione del comune capofila che è Scafati non va bene, ma non per colpe di Scafati, di fatto non va bene, l'attuale gestione temporanea è a scadenza e va pertanto ripensata mediante una pubblicazione di bando che il comune di Nocera in perfetta solitudine ha chiesto 4-5 mesi fa e che ancora non si è fatta, lo abbiamo ricordato ieri, se riusciamo a semplificare tutto, permesso sono da chiudere il patto, si può mantenere il piano di zona, si può mantenere l'agroinvest perché non diventi uno strumento di presidio politico o diversamente si può immaginare una riduzione semplificata di tutti gli strumenti di programmazione ad un unico strumento in programmazione ma non inventandosi cose che non si possono fare come ad esempio qualcuno aveva sostenuto dei sindaci portare le funzioni di piano di zona all'interno del patto territoriale. La regione dove siamo stati costretti ad interpellare per dire che avevamo ragione noi, ci ha detto che avevamo ragione noi come comune di Nocera, è un'operazione che non si poteva fare per lo meno in quei termini. Per la presenza dei privati innanzitutto. Per la presenza dei privati, per lo meno in quei termini, quindi è difficile tentare un ragionamento se ogni comune pensa a un proprio strapuntino. Noi siamo disposti a metterci a disposizione di tutti gli altri comuni, considerando che siamo però la città di Nocera e Inferiore, che siamo il capoluogo storico di questo territorio, che siamo una città di 47 mila abitanti e che quindi ragionevolmente dovremmo avere almeno la nostra voce in capitolo, non per sopraffare gli altri ma quantomeno per dire la nostra. Io credo che il tempo a nostra disposizione sia scaduto, però volevo un veloce passaggio, poi magari lo riprendiamo insieme. C'è la speranza di accendere i riflettori di un'eventuale sinergia pubblico privato sulla caserma rossa, che dovrebbe rientrare tra i beni alienabili. Guardi, io penso che noi tra poco dovremo finalmente sbloccare questa storia dell'atto di indirizzo per il piano urbanistico comunale, se no siamo in ritardo, anzi è anche l'occasione per… non ho avuto modo ancora di rincontrarlo, proprio perché ero fuori non città, come qualcuno pensavo io stessi a Santa Maria Castellabate, dice ma il sindaco non torna per la Nocerina da 50 minuti di viaggio, no, io ero fuori Regione Campania e potrei, come ho detto, prima di mostrarlo. Quindi non ho avuto modo di sentire l'assessore all'urbanistica, è un'occasione per rivolgere anche a lui un mio appello pubblico, non ce n'è bisogno, ma prima che lo risenta formalmente, noi dobbiamo finalmente come amministrazione partire con un atto di indirizzo sul piano urbanistico comunale, ma dobbiamo farlo come condividiamo entrambi, aprendoci al dialogo con tutte le forze produttive e sociali della città, capendo che quando parliamo di forze produttive non parliamo solo dei costruttori, parliamo anche dei costruttori, parliamo però delle forze di produzione di impresa, delle attività commerciali, dei cittadini, di coloro che hanno sensibilità ambientale e credo che in questo senso l'amministrazione che rappresento, non in modo ostile, ma anche qui in modo netto, abbia marcato una scelta di territorio di tutela dei suoli non compromessi, anche l'edificazione bisogna pensarla, io credo in due modi, parlo della caserma rossa e concludo, il primo è questo, il primo modo è dire recuperiamo l'esistente, non consumiamo altro terreno, perché di questi passi noi siamo arrivati a San Valentino e abbiamo saccheggiato il territorio, per fare cosa? Abitazioni che oggi neanche si vengono più, quindi recuperiamo l'esistente, secondo vogliamo immaginare un qualche cosa di veramente innovativo che metta in moto le imprese di costruzione del territorio di oltre, io sono il primo a volerlo fare, ma facciamo un qualche cosa che lasci il segno nella storia urbanistica della città, immaginiamo una grande progettazione, per esempio un grande punto anche simbolico di aggregazione architettonica, innovativo, un grande centro direzionale se vogliamo farlo, che metta in moto danari ed imprese, per il quale valga la pena anche occupare suolo e territorio e che sia il simbolo di una nuova città di Nocera, porta dell'agro nocerino sarnese, se questo si vuole fare io sono disponibile a ragionare, sbaracchiamo tutte le chiacchiere, ma smettiamola di fare appartamenti, 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 neanche di utilità sociale. I supermercati, ormai credo ce ne siano abbastanza. Sindaco, grazie, alla prossima, quando ci rivediamo? Penso la prossima settimana. Benissimo, così facciamo il punto anche sui lavori pubblici e lei ci porterà sicuramente altre buone nuove, grazie per essere stato con noi, grazie ai nostri telespettatori per averci seguito, arrivederci.